siamo arrivati dove a trento ciao amico benvenuti in questo nuovo video faremo il tour della casa andiamo alla scoperta di questo comodo apartment la cucina ri dove sei partita subito la camera facciamo al contrario facciamo il giro di qua scendiamo vedere solo questo scendere che deve far vedere l'altra zona e facciamo tutto il giro andiamo avanti l'altro letto qua c'è il bagno bello ampio cosa devi far vedere ancora facciamo vedere cosa questo letto cosa c'è in questo letto fa vedere di là manca ancora di là ci fai vedere il divano che c'è di là andiamo a vedere di là c'è anche di là ma come no ok adesso andiamo a vedere l'altro corri corri che arriva l'ultimo terzo della gara come no dai mi fa vincere la gara, che arriva l'ultimo rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo si, 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 fallo tu ok, abbiamo capito vieni qui di là, devi farvi vedere ok, posso salire puoi scendere così qua c'è l'angola, no? ma l'abbiamo già visto, eh tanto per il tuo non serve niente per me perché per dormirci io ci vorrei cucino prima di dormire con le bambole ok adesso possiamo andare a far vedere il divano gigante di là, quello che ho tutto più che l'abbiamo scelto per te tu sai che queste architetture come sa che le hanno fatti presentate con Renzo Chiamo oppure li ha fatti proprio lui ok andiamo di costa andiamo di costa andiamo di costa andiamo andiamo di costa andiamo di costa andiamo di costa questo che stanza è questo? come si chiama questa stanza? puoi? com'è fuori? bello? è una giornata come? è il sole, no? sì e piove anche ma non vuoi vedere fuori com'è? sì andiamo a vedere fuori su, perza da scarsa se vabbè faccio un po' di dietro per un minuto in un minuto si prende il corpo è bello vieni ci è bello facciamo una gara giocco e poi iniziamo così con i miei facciamo anche una premata c'è tutto il pacchetto a vedere fuori la struttura guarda a vedere fuori uno facciamo forza uno e tre adesso vieni entriamo che fa freddo papà chiude la porta di là manca la cucina vieni manca il divano facciamo solo la cucina che manca solo la cucina dimanche solo la cucina manca la cucina la cucina la cucina la cucina con tutte le due cose siamo tutti devi far vedere il suo toglie che l'ho portato devi far vedere le sue cose che l'ho portato cosa hai portato? tutte le tue cosine e poi ci saranno queste loro ok e basta e qua c'è questo benissimo che bello va bene allora aspetta possiamo salutare? perché non ci piace? perché questo è il nostro video comunque salutiamo dai vieni qua ciao ci vediamo nei prossimi video ciao ci manca il bagno ci manca il bagno già fatto vai hai offerto il bagno? sì scusate non abbiamo fatto un po' vai come fa? vai spiegati che cos'è questo questa è la doccia per fare per far la faccio per lavarsi sì e poi? poi questo isate aspetta io c'è questo e poi c'è questo questo non lo toccare nel spunto bene? poi c'è questo bene come si chiama? vedi? bene questo e questo e questo bene adesso possiamo salutare? allora ciao ci vediamo al prossimo video stay cute stay in family ciao ciao cos'è questo? ciao Ari benvenuti in questo Maurizio oggi dove stiamo per andare visto che piove è una brutta giornata dove andiamo? al muse al museo che c'è qui? a preto e cosa ci saranno? tutti i dinosauri? anche i guffiabili anche forse i guffiabili ma non è detto ci sono tutti i dinosauri della questoria e andiamo a vedere tutto questo percorso e forse è un percorso interattivo faremo dei video durante il museo in cui lei speriamo che si divertirà allora ci vediamo tra poco ciao ciao mi fai vedere quale ragione guarda non hai detto quale non hai detto non hai detto un uccello ah è quello lì a forma di uccello che ho usato ma c'era nella puntata di Vigodana vero? sì eh c'era e poi quale è che non hai visto? quello un po' piccolo una sola paura ma che era dublioso è vero che è bellissimo continuiamo il nostro tour? sì sì non c'è nessuna di quale è wow? Harry puoi vedere un mega pescello nel gigante? guarda che belli, guarda questi guarda questi guarda questi wow cos'è? ma cosa sono? no, non si può salire sembra vera? sei spaventata no, non si può toccare guarda il nome di questo è difficile ornitorino dillo bene ornitorino quali sono le uova? ornitorino la mamma c'è un po' piccolo oddio cos'ho trovato con un cervetto volante i miei capelli hanno credo andiamo a parlare no signor Pinto ciao 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 è così è bella è bella ma è a piccana non mi sarà mai l'occhio non mi iscrivete non mi iscrivete o no non mi iscrivete non mi iscrivete non mi iscrivete non si aspettiamo un anno po' poi domani questo è bellissimo è anche il proprio arriva allora viene a vedere il campino o no è bella c'è 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 qui Indica con l'altro ritmo. Cosa sono? Uomo e donna. Questo? Questa è la donna. E questo è gli uomini. Quanto sono gli uomini? Qual è? Le cinghie. Eh no! Quella è grande, è blu! Ma questo che è quello che abbiamo già visto? Ma troppo bello! È il pesce palla questo. Ma non è un pesce palla. Ma quanto è bello! Sono un pesce palla. Lo vedi? Ma perché non sale su? Perché sta in su fondale il pesce palla. Ma è troppo bello! Ma quanto sei grosso! Guarda che adesso sale! Vedo l'ospedale... Vedo l'ospedale, questo momento è il peli. Erano, il maestro. Vedo l'ospedale. Vedo l'ospedale... Vedo l'ospedale! Vedo l'ospedale! Vedo l'ospedale. non ci puoi fare un bagno? no e perché no? no per lei non ci può fare bagno andiamo avanti per lei non ci puoi non ci puoi non ci puoi fare non ci puoi fare non ci puoi fare il circolato non ci puoi fare il cacao il cacao si può fare perché è la canzone bisogna andare in Tanzania non ci puoi fare non ci puoi fare